Ciao a tutte, rieccomi con un nuovo video. Oggi vi farò vedere i 5 prodotti sotto i 5 euro. Il primo prodotto che vi mostro è questo primer occhi della marca ELF. Purtroppo non si legge perché si è cancellata la scritta. È nella colorazione sheer. Vi faccio vedere lo swatch che è questo qui. È un primer molto luminoso, copre benissimo tutte le discolomie della paltebra. Dura da mattina a sera, non entra assolutamente nelle pieghette, quindi se riuscite a trovarlo sul sito di ELF costa 1,70 euro. Vi consiglio di provarlo. Il secondo prodotto che vi mostro è un blush, sempre della marca ELF. Purtroppo non si può leggere perché si è cancellato. È nella colorazione Pink Lemonade. Questo è lo swatch del blush. Eccolo qui. È molto pigmentato, quindi ne basta veramente pochissimo. Ha una stesura molto facile. Dura tutto il giorno e l'unica pecca ha i brillantini. Quindi se non prediligete un blush con i brillantini, questo non ve lo consiglio. E ha anche un buonissimo profumo. Lo trovate anche questo sul sito di ELF a 1,70 euro. Ve lo straconsiglio se lo trovate. Il terzo prodotto che vi mostro è un correttore, sempre della marca ELF. È l'All Over Cover Stick nella colorazione rosy beige. Anche questo correttore, come il blush, ha un ottimo profumo. Ha una coprenza medio alta. Dura tutto il giorno. È ideale appunto per la coprenza di brufoli ed occhiaie. Quindi se lo trovate ve lo consiglio e anche questo costa 1,70 euro sul sito di ELF. Il quarto prodotto che vi mostro è un mascara della marca Essence. È la I Love Extreme. Volume mascara. Adesso vi faccio vedere lo scovolino. Ha un bello scovolone, è un nero intenso. Dura veramente tutto il giorno. Io lo metto da mattina a sera. Non mi secca assolutamente le ciglia. È un ottimo mascara. Se lo trovate nel Corner Essence prendetelo perché ve lo straconsiglio. E costa 3,29 euro. L'ultimo prodotto che vi mostro è un altro prodotto appunto di ELF. Che è l'Hyper Gloss. Nella colorazione Blossom. Vi faccio vedere lo swatch che è questo qui. È un colore rosa nude. È veramente molto molto bello come colore. L'ho provato solo due volte ma devo dire che mi piace veramente tanto. Ha un'ottima durata. Non secca assolutamente le labbra. Quindi se volete un colore molto molto chiaro anche per andare in ufficio o a scuola ve lo consiglio. Lo trovate sempre sul sito di ELF a 1,53 euro. Adesso lo riuscite anche a trovare in offerta. Bene, questi erano i 5 prodotti sotto i 5 euro. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao! 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 Ciao!